Novena del Beato Carlo Acutis Preghiera iniziale, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acutis durante i suoi quindici anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù concede la grazia che ardentimenti vi chiedo qui tu puoi dire la grazia che tu desideri Meditazione dell'ottavo giorno L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo Beato Carlo Acutis che cercavi sempre il tuo Gesù nascosto nel tabernacolo ottermi la grazia di un profondo fervore eucaristico Amen In ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei quindici anni della sua vita terenna preghiamo Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori che non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Senno Gesù Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora in tempo, nei secoli dei secoli anni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.